Questo è il letto più bello del mondo. Lo so che sembra strano dirlo. Dopotutto il concetto di bellezza è soggettivo. Ma queste sono le esatte parole scritte dai clienti Berto che hanno scelto di arredare le loro camere con i nuovi letti della linea Bowery e Eastside. Siamo di fronte a un vero e proprio gioiello dell'arte banistica. Frutto del genio dei designer Castello Lagravinese che hanno lavorato per mesi a fianco del reparto ricerca e sviluppo di Berto per realizzare qualcosa di mai visto prima. È il primo letto della collezione Berto interamente in legno massello. Un'innovazione realizzata attraverso l'applicazione delle più avanzate tecnologie del settore. Questo approccio all'avanguardia ci ha permesso di creare un letto con un design leggero, pulito e moderno. Ma allo stesso tempo così solido da superare anche le certificazioni di qualità più severe. Il giro letto è una cosa pazzesca dal punto di vista del design. Leggero e sottile con una sezione ellittica aerea che non solo aggiunge eleganza ma snellisce l'ingombro e alleggerisce visivamente tutto lo spazio. Grazie anche ai piedini in legno massello integrati nella struttura principale del giro letto che contribuiscono a slanciare tutta la linea. Il nome si ispira al quartiere Bowery di New York, nel Lower East Side di Manhattan. Nel corso degli anni 70 questa zona è diventata famosa per i suoi locali, come il leggendario CBGB's, dove gli artisti finalmente trovavano uno spazio per esprimersi. Il locale, al 315 di Bowery Street, ha ospitato le prime esibizioni di band che hanno fatto la storia della musica, come i Ramones, Blondie e di leggende come Sting, Patti Smith e Lurid. Le nostre linee Bowery Side, come molti altri arredi firmati Berto, si ispirano alla musica di questi artisti e rendono omaggio alla rivoluzione che hanno portato, dando vita a quello che oggi viene riconosciuto come un vero e proprio fenomeno culturale. Rivoluzione, uscita dagli schemi, provocazione, uno stile pazzesco. È lo stesso spirito che ha guidato Berto nella progettazione. Questi che vedi sono più di semplici letti, sono l'espressione di una cultura che abbraccia l'armonia tra confort assoluto, tecnologia all'avanguardia e design sartoriale. Ecco perché qualcuno li considera i letti più belli del mondo. La testata di Bowery è arricchita da un morbido cuscino imbottito con preziosi dettagli sartoriali per offrire un comfort eccezionale ad ogni tuo momento di riposo. Quella di Side, invece, è realizzata in paglia di Vienna, firma storica dell'arte banistica made in Meda, contornata da una sottile cornice in legno massello che abbraccia elegantemente l'intreccio. Completa il design della testata, un cuscino che puoi personalizzare con tutti i tessuti e le pelli della collezione Berto. Come sempre, quando scegli Berto per arredare la tua casa, le possibilità di personalizzazione non si limitano alla scelta del rivestimento. Potrai rendere unico il tuo letto attraverso la scelta di tutti i materiali e le finiture che lo compongono. Dal legno in massello di noce canaletto o frassino, nelle finiture naturale dark oil o nero, personalizzando anche la paglia di Vienna per creare un pezzo unico che si adatti al proprio gusto e stile personale. Bowery Side sono i letti progettati da Berto per arredare le camere da letto più belle del mondo. Vieni a scoprirli in showroom. Vieni a scoprirli in a scoprirli in a scoprirla.